Ciao a tutti, siete su Skyping the Bull, siamo su Bitcoin che ha rotto il bad, sta andando a testare i massimi ma abbiamo il Nasdaq che è il terzo tocco, sta rompendo, ok? Vediamo quello precedente, finta, è tornato giù, poi l'ha andato a rompere, poi è andato giù the moon adesso vediamo cosa è successo, sono uscito fuori dati, ne parliamo dopo la sigla e mi raccomando i 1000 like, l'ultimo video ha fatto 1000 like abbiamo aspettato una settimanina ma ha fatto i 1000 like, 1000 like per il prossimo, sigla 1000 like e iscrivetevi anche al canale, tanto io sono l'unico che non mette le pubblicità incredibile, ma non metto le pubblicità, ok? perché ci sono i fuffaguro che fanno le pubblicità, mi fanno veramente schifo, quindi niente allora, Bitcoin che succede? Ha rotto il bad due giorni fa, ha chiuso praticamente a filo è tornato su, ritestando, adesso è tornato giù, dati sull'inflazione, ha fatto il suo spike è tornato giù, il Nasdaq invece è andato to the moon, cosa è successo? L'inflazione e i dati americani che sono usciti con l'inflazione sono usciti fuori migliori del previsto cosa vuol dire migliori? Quindi inferiori alla previsione, quindi l'inflazione sta scendendo un po' più velocemente del previsto, cioè sugli ultimi dati, quindi è andato to the moon il Nasdaq guardiamolo a time frame un'ora, è andato assolutamente to the moon qua, eccolo qua, questo era l'orario del dato e daily però, guardate, veramente questa è una rottura importante il problema è, dobbiamo festeggiare, Bitcoin non sta festeggiando ma dobbiamo festeggiare, cerchiamo di capire quindi l'inflazione si sta scendendo anche più del previsto, quindi ottimo quindi i nostri cari, questi qua della Fed costui continuerà ad alzare o non alzerà? A lui non importa a lui, ovviamente lui dice basta che l'inflazione vada a 2% io sono a posto ma a lui importa che crolli il mercato perché questo? Perché per fare raffreddare i prezzi eccetera eccetera, per fare collare i prezzi del mercato delle case e tutto quello che ne concerne i tassi devono rimanere alti quindi non importa nemmeno che lui continui ad alzare lui ha minacciato altri due o tre rialzi ma lui in realtà non è che interessa tanto lui interessa che appunto case e l'economia in generale vada a crollare perché si è surriscaldato troppo e va a finire che i nostri figli non potranno comprarsi una casa facendo un lavoro normale il problema è questo quindi c'è bisogno comunque di un crollo di mercato cosa che non sta assolutamente avvenendo e non solo cioè stiamo andando adesso sul Bitcoin poi ne parliamo perché è un discorso a parte ma il mercato azionario insomma non è che manchi tantissimo questi sono i massimi storici qua però si continua così grazie alla I però il problema è che adesso usciranno i dati societari quindi vedremo se in questo trimestre il mercato crollerà perché arriveranno finalmente questi dati pessimi delle società, dalle società per il discorso che il tasso è al 5% e non al 5% i tassi sono altissimi e appunto chi è che è il pazzo che compra una casa con il mutuo a questi tassi qua chi è che compra una macchina con i tassi così alti chi è che è l'azienda che si rifinanza con questi tassi qua sono troppo alti ovviamente cercano di non farlo ovviamente se per forza devi per forza comprare una casa lo fai eccetera lo puoi anche comprare cash ma insomma non è proprio il momento e lo hanno fatto per far raffreddare quando è che capiremo se questo è il trimestre in cui arriveranno i dati pessimi per il colpo di questi tassi alti e che rimarranno alti ok non importa se la Fed alza o non alza più il problema è quanto tempo rimarranno in alto questi tassi rimarranno in alto fin quando non clonano i mercati quindi è inutile festeggiare ma avverrà in automatico cioè se ad Apple escono fuori dei dati terribili perché sta vendendo il 30% in meno di iPhone e crollerà non è che continuerà a salire crollerà e scenderà il mercato stessa cosa Tesla o gli altri quindi aspettiamo i dati che stanno per uscire adesso Tesla sappiamo il 19 ma ci sono anche tutti gli altri e vedremo domani se non sbaglio dopo domani ci sono già i bancari vedremo se ci sono già le prime sofferenze cioè quelli che non stanno più pagando i mutui perché non hanno più soldi no avete visto con i tassi così alti l'inflazione è to the moon il potere di acquisto è svanito è sceso tantissimo e questo fa sì che poi il mercato debba per forza crollare ma crollerà quando usciranno fuori i dati io pensavo già nel Q4 2022 sì nel Q4 2022 sarebbero già usciti i dati terribili alla società ma per colpa dello shortage diciamo hanno avuto una specie di lista d'attesa e ha fatto sì che questa cosa si spostasse vedremo se il Q2 2023 cioè adesso usciranno questi dati pessimi oppure no l'unico modo per far sì che la Fed cioè che questo signore possa abbassare i tassi è che deve crollare il mercato quindi fin quando non crolla il mercato lui non abbasserà i tassi e lascerà i tassi così alti c'è poco da fare e li lascerà alti fino a quando fino a quando i dati societari non crolleranno quindi vedremo che succede nel frattempo comunque si festeggia noi andiamo avanti per conformazioni io sono qua per cercare le conformazioni quindi adesso non andremo a fare Bitcoin invece non facciamoci prendere dalle finte ok perché cosa sta aspettando? sta aspettando quest'altro signore sta aspettando che questo signore dica qualcosa ok nel frattempo vedremo sul Nasdaq che c'è un grandissimo vincitore che si chiama Coinbase Coinbase è il più grande vincitore di questa storia degli ETF ok magari ve ne parlo meglio quando vado ad analizzare Coinbase ok però per adesso nel mondo cripto ragazzi fin quando non esce la sua decisione di questo personaggio squalidissimo quindi vediamo se la SEC si inginocchia davanti a BlackRock oppure no qua rimarrà così qua rimarrà finte non finte finte non finte ovviamente anche qua andiamo per conformazioni lavoriamo sugli altri bene però attenzione ok perché tanto è inutile anche che faccia uno strappo prima della decisione perché poi tanto se poi la decisione è contraria arriverà un mega schiaffone ribasso quindi tendenzialmente dovremo rimanere in questo canale e avere finte su finte per quanto riguarda Bitcoin comunque per sapere basta guardare il time frame un'ora ok quando si vede qualcosa che comanda comanda l'EMA 60 l'EMA 60 sta chiudendo ci troviamo tutte l'EMA qua sopra teniamolo d'occhio ok così riusciamo a capire e dopo parliamo di Coinbase perché lui è il grande vincitore spiegheremo perché anzi volete lo dico già subito perché BlackRock cosa farà? BlackRock per avere il sì della SEC deve dire dove metterà lo spot del dove andrà a mettere i Bitcoin che servono per l'ETF e li andrà a mettere su Coinbase ok ma questo cosa cosa vuol dire? vuol dire che Coinbase difficilmente andrà a fallire adesso Coinbase era fra quelli che rischiava di andare a fallire ok sapete che per fare trading è veramente assolutamente assurdo ed era fra quelli che rischiavano addirittura di fallire ma se si fa questa cosa qua ovviamente viene legittimato Coinbase ok Coinbase con la SEC fra l'altro la SEC proprio odia Coinbase ha fatto di tutto per andare contro Coinbase per non regolamentarlo eppure quindi se passa questo in automatico Coinbase viene dato il bollino il bollino blu del ok il prezzo è giusto no viene detto ok Coinbase mi vai benissimo e quindi è assolutamente un to the moon è un game changer per Coinbase e dopo andremo a vedere infatti sta andando veramente è andato veramente to the moon andiamolo a vedere subito andiamoli a vedere subito Coin 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 Coinbase Coin eccolo qua guardate il daily di Coinbase qua stiamo parlando di percentuali altissimi ok 94% 94% ma da giugno ragazzi non dai minimi cioè da quest'anno qua stiamo parlando del 2023 guardate dal minimo dal 6 gennaio ad oggi stiamo parlando del più 185% ma il problema è questo qua rischiava di fallire stiamo iniziando già a scommettere sul fatto che potesse fallire Coinbase ok ricordate perché comunque la SEC ve lo vuole far fuori part trading ha dei fee altissimi è veramente inutile invece questa cosa qua capito cioè altro che Bitcoin il vero vincitore di questo di questo ok di Gary della SEC il vero vincitore è Coinbase ma vedremo poi se accadrà questo comunque andiamo a vedere weekly cosa dice weekly di Bitcoin bellissimo il weekly di Bitcoin andiamo verso il terzo tocco ok questo è il secondo sarebbe meglio che andasse a testare addirittura ai 29.000 per poi andare a fare il terzo tocco questo sarebbe bellissimo sarebbe un weekly fantastico per poi dopo andare a esplodere allora sì ok però ovviamente dobbiamo sempre vedere se abbiamo questo ok e poi che cosa accade poi ci sarebbero altri ragionamenti da fare non so se avete voglia di farli sul fatto di poi questo FT ovviamente appena mi fuori la notizia che se Gary dovesse dire di sì ovviamente ci sarebbe lo spike ma poi ricordiamoci che poi ci vuole la gente che poi effettivamente dica bene sposto i miei Bitcoin comprati su non so Binance non mi fido di Binance quindi li metto poi compro l'ETF che l'ETF poi in realtà li stai mettendo su Coinbase quindi in pratica non ho bisogno mi fido di più di Coinbase dopo invece di Binance il discorso è un po' questo ma se uno fa questo ragionamento qua non è che Bitcoin sale perché praticamente lo sposti da un exchange all'altro quindi non sale sale se ci sono nuovi che comprano ed effettivamente è più facile dopo che magari qualcuno che non si fida del mondo cripto dica c'è Blackrock Blackrock si appoggia a Coinbase mi fido di sicuro non perdo le chiavi del mio Bitcoin e posso comprarlo e finalmente mi fido perché vi ricordo che ad oggi ci sono tante persone che hanno paura di comprare il mondo cripto perché dicono ma se sbaglio qualcosa poi perdo tutti i soldi ma non perché scende perdono i soldi perché magari hanno sbagliato un link hanno sbagliato di fare di mandare i soldi insomma purtroppo succede e quindi dopo potrebbe esserci effettivamente persone che non avrebbero mai pensato di comprare Bitcoin che dopo lo farebbero ecco in quel caso allora sì che Bitcoin salirebbe ma altrimenti se non ci sono personaggi nuovi è inutile non è questo che serve ok non è questo quando vi dicono che Blackrock ha 10.000 miliardi di soldi gestiti sì ma non è che dopo va a comprare 10.000 miliardi ok va bene detto ciò conformazione weekly comunque spettacolare soprattutto se va a testarla a 10 che mi va a fare proprio un terzo tocco fantastico ok questo veramente mi piacerebbe ah poi parliamo di date quando è che potrebbero dire prima tappa è il 12 agosto entro il 12 agosto potremmo avere la prima il primo ok vedremo ok loro poi potrebbero farlo domani però il primo deadline cioè il primo la prima tappa è il 12 agosto vedremo se entro quella data dirà qualcosa ma secondo me andrà andrà alla lunga oppure o se si fa vivo si fa vivo per dire che qualcosa non va nel mensile invece niente il bad non io speravo nel bad il bad non ce l'abbiamo vediamo se almeno ci fa una candela di azzeramento che almeno una candela di azzeramento mi piacerebbe assai anche questo ci potrebbe permettere di poter fare un poi di avere uno scatto potente dopo ok quindi va bene vedremo se abbiamo se avremo questa cosa oggi è il 12 si oggi è il 12 quindi siamo neanche a metà mese ma finendo il mese così non sarebbe mai questa sarebbe una bellissima candela di azzeramento detto ciò andiamo a vedere gli altri ok daily di eth e praticamente siamo sempre lì sono tutti schifosi uguali bnb invece avevamo la tecnica di bnb io ve l'ho detto attenzione perché tecnica di bnb si ok ma avevamo lema 5 settimanali in testa ok quindi sicuramente c'è stata l'accelerazione perché adesso c'è il nuovo ICO che se non sbaglio è il 17 però lema 5 in testa ok quindi tecnica bnb ottimo come come anche le altre conformazioni quando non abbiamo lema in testa ok quindi vedremo comunque la sua conformazione l'ha fatto ovviamente il giorno del del launch pod molto probabilmente andrà a scendere dell'ICO dell'ICO ICO 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 allora ve l'ho detto dei 1000 like ve l'ho detto vero cliccate cliccate 1000 like allora ADA ADA bellissimo daily con lema 5 che comanda spettacolare tre cime sotto lema 5 settimanale ragazzi bellissimo vedere il settimanale oggi ha fatto la finta quindi abbiamo un ottimo livello questo livello qua è assolutamente trigger bello poi avete visto poi il bad il bad ha rotto ha fatto la finta come mai ha fatto la finta perché avevamo lema in testa è sempre molto pericoloso quando abbiamo un ema in testa poi soprattutto se è un ema neanche giornaliero ma settimanale ok oggi abbiamo fatto la finta ma questo livello qua la seconda volta che ci va attenzione anche perché poi romperebbe di nuovo il bad ok quindi sarebbe ottimo andiamo avanti fin quando troviamo una conformazione ah questo era sol attenzione perché dopo non abbiamo ema in testa ragazzi l'ema 60 è lontanissimo l'ema 60 del settimanale e questo è questo è sì questo è il livello vecchio questo è un bad questo è un bad e sta chiudendo dentro quindi no ma teniamolo d'occhio perché se facciamo il bad che rompe la 203 va bene xrp abbiamo il nostro bad dunque un po' il festival delle finte ecco questo già la rottura di un bad senza lema capite qua la differenza di quella di prima terza cima quindi è un 1 2 terza cima uscita bad che rompe tutte le ema questo è bellissimo xrp molto good xrp capite la differenza quando non ci sono le ema sopra o comunque sono distanti è molto meglio l'aramatic questo ci piace guardate guardate questo bad si è funzionato cos'è avax avax rottura della 60 le ema sono distanti ci potrebbe stare ah dodge attenzione dodge perché abbiamo le ema 5 in comando le ema 5 nel settimanale teniamo addosso abbiamo il bad di rottura però abbiamo subito la 60 bello shiba abbiamo il livello ancora meglio però abbiamo sempre questa 60 che andrebbe a fare il secondo tocco quindi abbiamo riusciamo a trovare qualcosa di meglio sicuramente ltc i massimi di ieri mi piacciono quindi già da domani questo massimo qua è molto interessante sta appoggiando sui le ema settimanali ah la juve la juve alla fine è chiusa sotto pensa a te pensa a te è andata a testare la 60 guardate qua che esplosione che ha fatto poi è tornato leva 5 torna a comandare no good no good ma se chiude sopra già 22 2 2 2 6 porto oh porto ancora lì porto è ancora lì guardate questo è un bellissimo bad to the moon non paga tantissimo fino alla 60 ma varrebbe la pena provare perché potrebbe andarlo a rompere qua teniamo la 60 sta funzionando quindi basta chiudere sopra la 60 che dopo abbiamo spazio fino a 223 Santos vale sempre questo livello candelline sulla 10 chi è questo? ah Paris Saint Germain era scoppiato wow candelline bello bello già da domani questi massimi qua già al terzo giorno con leva 5 che torna a comandare o torna a comandare in tutte praticamente leva 5 settimanale Alpine Lazio eh sono tutti lì sono tutti lì tutti lì oggi no oggi il peggiore ATM questo qua abbiamo la rottura della 5 abbiamo però non tantissimo fino alla 60 possiamo far di meglio possiamo far di meglio ho Axlema 5 che comanda perfettamente questo è già carino cos'è questo? LRC ecco LRC abbiamo un bad soprattutto da domani però abbiamo poi lema 5 in testa tutte queste qua con lema 5 in testa settimanale mannaggia mannaggia cerchiamo qualcosa di anche questo sarebbe carino però ci troviamo ci troviamo lema 5 settimanale anche questo sarebbe bello lema 5 in testa lema 5 in testa 60 siamo a 2% siamo a 2% molto carino molto carino questo ARB nuovo bello bella laterizzazione senza lema capite la differenza quando laterizza sullema quando laterizza senza lema sopra c'è una bella differenza send ma poi dopo abbiamo la 60 questo chi è? ah GMT ma sta esplodendo adesso vedo ha visto d'occhio Dello che si muove eh sì ha visto d'occhio eh sì magari va andata e sta alla 60 vedremo abbassiamo le scarpette ponzi ancora in vita sembra di 0.23 io ho segnato lo short a 4 pensate che roba comunque terzo tocco niente male ovviamente adesso è un dritto per dritto andiamo a time frame 1 ora eh sì ah questa è una bella laterizzazione sta esplodendo in diretto quindi no good aspettiamo dai con calma no fomo ah il bad l'ha fatto ah questo ah time frame 1 ora ha fatto il maxi bad bello bello il maxi bad eh sì eh sì va bene andiamo avanti dai GMT to the moon in diretta questo guardate qua ETC livello che ha stra funzionato qua abbiamo un casino in groviglio di EMA dai mi sa che andiamo a vedere qualcosa sul bull bot perché qua fanno tutti abbastanza cagare abbiamo tutte le anche IDEX guarda te l'hai d'occhio il pazzo questo pazzo di IDEX abbiamo un bellissimo livello quindi la cima più alta di queste candeline ma abbiamo subito la 5 insomma oh sono un sacco di tracime AXS level siamo sempre lì gold cro LQ bello di per 10% va a testare la D ecco questa è una bella rottura è un terzo tocco però è andato subito alla 60 a un'ora come siamo messi eh sì sta preparando la lateralizzazione per rompere la 60 meglio se lo fa domani quindi LQT Y se domani se non va a superare i massimi domani sarebbe l'ideale rottura dei massimi di oggi con la rottura da 60 e tanto spazio sopra interessante vedremo dai questo almeno è interessante GFT GFT pure perché abbiamo tanto spazio abbiamo il bad da domani Lina purtroppo abbiamo questo è il livello della 60 ah Pepe 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 massimi di oggi sono farebbe finalmente chiusura sopra la 10 e lì ci possiamo aspettare un'accelerazione quindi massimi di oggi molto good quindi da domani Flochi siamo lì Lema 5 settimanale GPT ah fatto il suo bel rimbalzo adesso andiamo testando la 5 settimanale FTT ah guardate la time frame un'ora abbiamo livello del terzo tocco questo è un livello esplosivo 1 2 vediamo adesso andate a stare interessante tra i docchi FTT perché ci possono essere novità ci possono essere assolutamente novità ditemi se va bene l'Audi è al massimo storico più alto di così non lo riesco a mettere poi ovvio quando faccio analisi tecniche comunque parlo un po' più piano chi è questo finito niente fatto abbastanza schifo andiamo a vedere il bull bot allora abbiamo un nuovo segnale hammer spettacolare questo però andiamo a vedere dei daily daily vediamo oggi dicono ecco già GMT guardate che roba segnalato già andato to the moon ma chi ero sono ah si sono le 20 ok VRX ah ok quello era il segnale di prima ok già andato e niente alltime high vediamo sembra qualcosa di nuovo beth no ma è troppo distante cambio colore no fomo qualcosa di nuovo oggi alle 15 chi era VRX ok l'abbiamo già visto mini fomo VRX loom ah loom ha rotto andiamo a vedere sto loom se non ha rotto eh si l'aveva già fatto ha già rotto di quanto ha rotto i massimi di ieri quindi livello fomo eh 5% niente male però è già andato ed è bello perché adesso va a testare la 60 comunque è un terzo tocco con rottura la 60 bellissimo bellissimo vediamo qualcos'altro pesca saldi ah no facciamo così andiamo a vedere andiamo a vedere i migliori e i peggiori un attimo visto che non c'è granché vediamo se c'è qualche qualcosa di interessante ok sembrava strano anche questo è nuovo occhio ai pump e dump eh ragazzi quindi mi raccomando quando ho entrato solo con le conformazioni perché ultimamente stanno vedendo un sacco di piramidi di di Burja e Califa salgono e tornano addirittura giù di prima ok sono tutti dei pump classici schifosissimi che purtroppo assolutamente no good vedere questa roba qua eh perché insomma fa incazzare un po' la sec e non solo è un peccato poi vedere queste cose comunque tanto noi entriamo con le conformazioni ce ne sbattiamo time frame 5 minuti qua non ce l'abbiamo neanche time frame 5 minuti daily è già esploso siamo già fuori questo è quello che abbiamo già visto ma conformazione ormai siamo in ritardo vediamo se c'è qualcosa di nuovo ancora decente da rompere questo l'abbiamo appena visto no ah GMT che va verso il terzo hard oh questo è carino hard oh meno male dai perché carino perché comandava l'EMA 5 nel settimanale il tappo ovviamente qual era l'EMA 60 speriamo che faccia tappo oggi domani questo massimo qua è veramente sarebbe molto bomba con fra l'altro un altro trigger questo trigger nelle vicinanze ok vediamo lo time frame 1 ora se riesce a resistere si è appena fatto il pump riuscisse a resistere fino a domani sarebbe sarebbe interessante dai dai andiamo ad azionare perché sennò questo il video di oggi non finisce più che è già tardissimo quindi Nasdaq abbiamo già parlato questo è veramente un terzo tocco rischiamo un po' di avere la finta perché quello che è importante sono i dati aspettiamo i dati del Q2 tanto se escono bene poi abbiamo altri tre mesi in cui il mercato possa andare a favore ok questo è capito sto ragionamento adesso escono fuori i dati del Q2 cioè del secondo trimestre se fanno schifo il mercato crawlerà perché i titoli crawleranno e soprattutto se inizieranno avere dati negativi ma soprattutto l'outlook negativo ragazzi è un macello è un macello se invece come è successo negli ultimi due trimestri alcuni sono usciti fuori con dei brutti dati altri con dei dati normali altri con addirittura dei bei dati non succederà nulla se non continuare a salire addirittura potremmo andare a testare i massimi storici sarebbe il colmo ma potrebbe anche succedere quindi dipende da quei dati lì è inutile incasarsi per i dati dell'infrazione cioè niente da festeggiare perché tanto la Fed non abbasserà i tassi fino a quando non crollano i mercati è matematico quindi è inutile e purtroppo il nostro potere d'acquisto è ai minimi storici fin quando ci sono i tassi così alti ok quindi c'è poco da fare e niente detto ciò vediamo un attimino settimanale mensile su di todo moon ragazzi qua abbiamo c'è proprio bisogno di andare a ritestare cos'è sta roba todo moon cioè troppo troppo dritto per dritto quindi comunque massima attenzione solo con formazioni ok standard and pools uguale to the moon la Germania attenzione la Germania è il nostro sorvegliato speciale perché è il peggiore in Europa a livello economico eppure è salito un botto anche oggi piazza affari invece è uno dei migliori in Europa incredibile e niente siamo andati a fare nuovi massimi eh sì no no ovviamente storici ragazzi storici scordatevi i massimi storici piazza affari perché ci vuole ancora un altro 100% quasi ma comunque stanno andando su infatti i bancari sono andati abbastanza bene o no sì sono andati bene andiamo a vedere comunque non abbiamo conformazione sull'indice la Russia rimbalza anche la Russia per l'altro la guerra non si è risolta si sta complicando anche la guerra non so se state seguendo ma l'Ucraina vuole sta facendo di tutto per entrare adesso nella Nato perché così dopo ovviamente la Nato andrebbe a reagire ovviamente la Russia difficilmente bombardere continuerebbe a bombardare o nel caso si passerebbe direttamente a nucleare quindi comunque è un casino ovviamente gli stati membri della Nato stanno dicendo ma stai scherzando dopo la guerra ne possiamo parlare ma con la guerra in atto non se ne parla proprio speriamo che rimangono di questa opinione HSI ah cos'era questo per andare a vedere Hong Kong giusto per capire l'Asia sta preparando un ottimo livello short benissimo non è se lo metto qua diventa un terzo tocco lo disegniamo? disegniamolo 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 tazzina bruttissima però insomma tazzina è tazzina veramente brutta ma tazzina è eh dai facciamolo meglio allora tazza col manico ok 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 poi andiamo avanti malissimo questo è il dollar che perde potere e l'euro che va to the moon male 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 ma comunque i livelli erano quelli ok quindi per il forex ragazzi i livelli già indicati to the moon ci sta benissimo ovviamente fin quando ci sono i mercati forti poi adesso quando quando e se i dati societari inizieranno a uscire fuori negativi vedremo il contrario cioè il dollar dovrebbe apprezzarsi quindi scendere qua nel grafico quindi per adesso tenetelo d'occhio quindi quindi ricordatevi voi del forex se i dati societari vengono fuori negativi i mercati inizieranno a crollare e il dollar dovrebbe rafforzarsi quindi scendere quindi attenzione qua abbiamo dei to the moon e tu de stalla dollaro sterlina nuovi minimi oh questo mi piace stiamo andando verso un terzo tocco dollaro australiano euro cancelliamo questo che non ci serve più qua un dritto per dritto oh qua abbiamo un ema 10 un ema 10 che è già stato testato amo quando è già stato testato amo amo molto good questo è un livello fantastico short terzo tocco ah questo è in testa san paolo verso un terzo tocco ucg bellissimo rompe il bad daily andiamo a 30 minuti bello 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 questo è il livello qua questo me lo sono perso eh sì questo è un ottimo livello ottimo livello ipa rotto fineco to the moon monte dei paschi di siena qua c'era una conformazione bellissima time frame mi ricordavo meglio comunque daily di rottura niente male teniamo aspetta vediamo 30 minuti abbiamo qualcosa per domani ah sì dai abbiamo un livello di rottura buona con la lateralizzazione sì dai qua ci può stare per domani nexi oh hammer poi vi racconterò farò un video sull'hammer spero questa settimana prima di insomma prima di lunedì quindi magari vabbè vediamo questo bellissimo hammer è giustamente quindi domani attenzione bami ha rotto noi vogliamo conformazioni prima di andare a rompere vogliamo delle conformazioni prima uh finalmente la candela rossa di saip finalmente la candela rossa ecco lui invece saip rischia dovrebbe uscire fuori con degli ottimi dati e ha già fatto sta già apprezzando quegli ottimi dati stellantis bellissimo questa rottura anche qua wow bello 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 è già andato è già andato questo era un bellissimo livello race ah questa è Ferrari sta riposando meno male stm siamo lì siamo lì abbiamo una conformazione a 30 minuti sì dai abbiamo una bella rottura per domani ecco domani attenzione ai massimi di oggi questo può essere importante questo me lo devo scrivere stm devo scrivere stm questo è interessante bello rottura potremmo vedere l'accelerazione iwg è già rotto telecom ecco ritorna ritorna verso i livelli con lema attenzione ah saras saras ottimo questo è un altro indovinate che cos'è un altro hammer bello andiamo 30 minuti usciamo fuori dallo shimano sì questo è da tenere d'occhio questo è un hammer qua andiamo a testarla a 200 hammer e domani potremo avere un rimbalzo srs srs interessante devi fare i compiti per domani enel ah poi nasdaq noi andiamo a vedere i grafici che sta andando ottimo enel enel che rompe enel che rompe pirelli è già rotto qualcosa che non abbia ancora rotto sarà difficile ah questa era bellissima sì questa rottura bellissima ancora mini meff in cantieri OVS chiude sopra con l'uscita shimano abbiamo livello trigger che è questo qua qua come fossero sempre massimi inferiori Juve interessante anche qua questo massimo lo terei d'occhio Tiscali che finisce l'aumento di capitale ovviamente è crollato vedremo si può rimbalzare ma insomma si è riempito di roba tossica adesso C PR però vediamo 30 minuti abbiamo qualcosa fa veramente schifo fai veramente schifo però abbiamo un bad invalidato quindi basta ritornare livello bad molto good si rimettiamo se dovesse ritornarci livello fantastico campari oh domani abbiamo livello bello perché qua l'ha rotto per uno sputo si l'ha rotto per uno sputo giustamente ah questo mi piace c c c pr c pr campari andiamo dai per 30 minuti fa troppo dritto però il livello si vede magari domani apre di basso è evidente buono si troppo dritto per dritto daily bello mettiamolo mettiamolo bello campari bello campari bello campari ah abbiamo un ottimo livello ecco vedete che io ho un alert questo è un ottimo bad ottimo bad su mediaset ok andiamo a vedere nasdaq ragazzi e sta andando quindi siamo live su nasdaq così dopo possiamo anche vederci a qualche conformazione apple sta facendo la finta la finta rottura molto no good tesla che fa il suo bel rimbalzo però si la sta mangiando sta mangiando il rialzo oh babà babà esce fuori la shimano beh la shimano praticamente non lo è però insomma rompe la 200 amazon ecco oggi finisce amazon prime se non sbaglio e non ha rotto il livello quindi brutta questa e rischia che vengono fuori i dati di amazon prime praticamente schifosi perché la gente ha meno soldi l'inflazione e i tassi alti hanno distrutto i risparmi soprattutto gli americani che sono mai stati così indebitati ragazzi quindi è una bomba ad onorologia e vedremo amazon uscirà con i dati negativi o no ovviamente se si crollerà però è bellissimo questo livello quindi è ancora buono il livello ah google google continua un po' a ribasso meta invece to the moon con il suo nuovo social ah ha rotto i 300 alla fine ha rotto oggi ah si ha rotto pure i 300 to the moon come siamo messi che fa l'altro il suo nuovo social che prende il post di twitter ha fatto 100 milioni di iscritti in 5 giorni ovviamente il nuovo record storico non è mai successo ovviamente però sono praticamente tutti quelli di di instagram in automatico potevo cioè con un click potevi iscriverti quindi è un po' una fregatura però insomma ci stanno credendo ci stanno credendo io non vedo l'ora di vedere i dati di meta sulla pubblicità perché se è vero che le società adesso sono in crisi hanno meno soldi investono meno in pubblicità quindi voglio proprio vedere cosa accade a meta voglio vedere i dati e questa volta ragazzi andrò a analizzare molto bene i dati societari molto bene farò dei video appositi microsoft ecco microsoft secondo me con la i è quello che in realtà rischia di mangiarsi google quindi microsoft te l'hai d'occhio questo è un terzo tocco invidia oh cavolo ancora nuovi massimi invidia anche in invidia è quello che sta facendo il cash i soldi veri con la i li sta facendo invidia e anche microsoft quindi questi sono quelli veri non come apple non come apple eh qua purtroppo sa che la va a rompere palantir oh creiamo un po' di livelli oh un po' di roba con dei livelli ci piace questo è il vero livello e ci manca poco palantir è una bomba sta società qua è una bomba io ve lo raccontavo già insomma in queste zone qua space niente ecco anche snapshot attenzione ai dati snapshot perché appunto anche lui campa di pubblicità se viene fuori pubblicità negativa intanto sta festeggiando la rotura da 200 dopo aver testato la 10 rivian che va to the moon sembra che non stia più rischiando di fallire qualche macchina le sta costruendo insomma dai anche questo aspettiamo una conformazione roba che non c'è ad oggi ma questo abbiamo un massimo decisamente interessante andiamo a cancellare sta roba cancelliamo sta roba lucid questo rischia expev questo ve l'ho già parlato è continua è continua vediamo vediamo se andrà a incidere poi questo ovviamente non su questo trimestre ma sul trimestre successivo se questo modello in particolare è una mazza tesla in cina ve l'ho parlato l'altra volta Nio Nio che si sveglia la conformazione non ce l'abbiamo qua ce l'abbiamo questa è Nicola qua si può solo sperare uno short squeeze perché a livello societario non lo so non credo che ci siano risvolti praticamente interessanti ma chi se ne frega noi andiamo di conformazione nel caso questo è un ottimo livello e poi paga questo Nicola è sceso talmente tanto cioè non so se ci rendiamo conto è sceso talmente tanto che quando parte e lei è lontanissimo quindi questo è un livello molto good Ford meglio se fa un terzo tocco ma le auto to the moon veramente con questi tassi non si può vedere ovviamente che roba come si fa a comprare una macchina adesso? Arate cioè Arate cash vabbè ma Arate adesso veramente è follia c'è un tasso altissimo ACM Spotify bella rottura livello già indicato Riot ma bella dritto per dritto Elaton oh qua c'abbiamo chi è questo qua? ah Netflix bello terzo tocco K K è K O da quando mi avete chiesto di metterlo praticamente è crollato e basta MicroStrategy MicroStrategy invece è incredibile MicroStrategy che sale a discapito di Bitcoin mmm mmm cosa c'è sotto? moderna moderna che purtroppo purtroppo mi sa che andrà a rompere la 60 ah questo livello non possiamo togliere questo lo possiamo togliere 1 2 3 questo è il quarto tocco della 60 dell'EMA 50 dopo c'è spazio e andrebbe a rientrare nel livello di rottura molto male hood ah Walt Disney veramente i dati dei film che sta facendo Disney veramente qualcosa di clamoroso sta facendo dei flop clamorosi quindi attenzione eccolo Coin Coin mi hanno già parlato ma il vero vincitore del sì all'ETF sarebbe proprio Coinbase quindi io veramente mi aspetto un'esplosione nel caso perché chi veramente veramente il vincitore è lui però zero conformazione vediamo se c'è qualcosa bello massimi sempre inferiori molto bello fra l'altro abbiamo questo volevo volevo una conformazione in diretta time frame 30 minuti abbiamo il livello di rottura per andare a fare poi nuovi massimi bello 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 Coin Beyond cancelliamo un po' di roba cos'è questo ah Beyond Meat oh finalmente rimbalza i bistecchi vegetali qua FDX ecco anche FDX non vedo l'ora di vedere i suoi dati perché anche qua se va male Amazon se vendono meno con Amazon che agita meno soldi fa meno pacchi FDX uguale quindi molto interessante anche quando usciranno i dati di FDX assolutamente da seguire troppo dritto più dritto Airbnb l'Italia sta andando to the moon per quanto riguarda le vacanze veramente ci sono gli stranieri che stanno veramente veramente prendendo sta proprio andando di moda l'Italia un sacco di americani fra l'altro che ultimamente va di moda sputtanare gli americani cioè gli americani vengono in Italia e dicono wow quanto fa schifo l'America incredibile mai vista sta roba qua e niente sta andando di moda l'Italia incredibile però a livello mondiale direi che insomma Airbnb vedremo i dati saranno molto interessanti vedremo chi ha i soldi per andare in vacanza ok quindi se poi si concentra in Italia possiamo vedere qualche paese che avrà più vacanze più persone in vacanza quindi l'economia sotto quell'aspetto lì andare bene l'Italia è uno di questi ma globalmente tendenzialmente la gente ha meno soldi quindi è inutile vedremo la matematica cosa ci dirà zoom tanti livelli macchine usate cioè rimbalzo pazzesco delle macchine usate vedremo anche i dati di questo magari non si possono più permettere macchine nuove vanno a comprarlo usato ci può stare vedremo vabbè snow niente petrolio purtroppo sta rimbalzando molto male ecco la differenza di bitcoin bitcoin sta aspettando la SEC e lo capiamo anche dal fatto che l'argento sta andando to the moon ricordatevi che quando qua c'era questa salita anche bitcoin ha fatto quella sua salita quindi era bitcoin oro e argento adesso argento guardate che ha roba più 4% cosa? più 4% veramente to the moon esce dello shimano mamma mia togliamo tutto e bitcoin invece non sta facendo nulla gold pure gold to the moon che è strano perché gold to the moon ci dovrebbe andare quando poi si pensa di andare in recessione quando si pensa che il mercato stia corollando quindi con i mercati appunto a ribasso quindi togliamo tutto vedremo gas gas arma finta niente a piazza afari abbiamo guardate qua visibilia guardate visibilia abbiamo il nostro movimenti da da mondo cripto quindi visibilia che ha bisogno di ovviamente di andare ecco in viagra questa è il time fra i 30 minuti viagra ema 5 ha bisogno di andare a testare la 10 come minimo ma anche di più troppo tutto però dopo avremo un bellissimo terzo tocco te le d'occhio perché questa è la santa archè ci sono dei problemi grossi però insomma ci sono dei movimenti quando ci sono dei movimenti ci piacciono ci piace assai però qua bisogna di riposare andiamo a vedere qualche altro daily aicos finte non finte ah xi ecco xi mi è piaciuto un sacco oggi avete visto ho fatto un bellissimo operazione time frame 30 minuti guardate la bellezza guardate la bellezza l'ingresso rottura 1 poi addirittura è andato oggi a 1.13 mannaggia sono uscito a 1.8 e poi 1.6 8 comunque un milletto portato a casa vediamo se ne ha qualcos'altro di interessante come daily ecco terra d'occhio anche iig iig ah andiamo a vedere su discord che adesso lunedì a casa bull presenteremo il bull bot azionario andiamo a vedere andiamo a vedere sul nasdaq nasdaq long cosa c'abbiamo nel daily lunedì a casa bull lanceremo se tutto va bene il bull bot azionario oh questo andiamo a vedere chi è questo qua max 10 giorni chi è questo poi apriamolo ah l'ha già rotto niente è già andato però ottima segnalazione questo forse vediamo oh qua ce l'abbiamo ancora bellissimo doppio livello bad oh fantastico un doppio bad spettacolo spettacolo ecco cosa ha bisogno di riposare un attimo che comanda lema 5 a tempo 30 minuti riposa un attimo poi questo è bellissimo questo me lo devo segnare e vrg spettacolare spettacolare bello vabbè andremo a vedere ragazzi iscrivetevi al canale ah mi raccomando dovete far parte del bull family cliccate solo qua lo trovate anche in descrizione solo sul link tree e qua trovate tutto non fate le ricerche perché usciranno tutti i fufaguri i gruppi che vi spendano tutti i nostri falsari ok quelli veri ufficiali trovate solo qua quindi cliccate semplicemente o il link in descrizione o andate qua trovate tranquillamente ciao